La vita della gente di cinema, ma dell'intellettuale in generale, era molto diversa da quella di oggi. Oggi non ci si vede più, non si sta più insieme. Allora ci si conosceva subito, anche quelli venuti dal nord cercavano di mettersi nel gruppo dell'intellettuale, dei cinematografari qui di Roma. Quando io ho cominciato a fare il cinema, l'ambiente era così cordiale e unito. Fai conto, Blasetti ha girato la battaglia della grande guerra di Municelli. Annamitié, capito? Ti do una mano. Adesso queste cose non avvengono più. Poi c'era la vita dell'intellettuale ai caffè. Quando io ero ragazzina. Prima fu a Ragno. E poi, quando sono stata più grande, e quello l'ho vissuto di più ancora, è stato Rosati a Via Veneto, dove si incontravano gli intellettuali. Tu a fine mattina e a tardo pomeriggio, se andavi prima un tempo alla Sala Rossa di Ragno. C'è il famoso quadro di Bartoli, no? Gli amici a caffè. Eri sicura di trovare qualcuno? Quasi sempre, sempre gli stessi. Se invece non eri una bisuè, ma volevi trovare e parlare con qualcuno di loro, sapevi che a fine mattina, tardo pomeriggio, lì erano. E ci stavano a lungo, non è che ci stessero poco. A caffè si parlava così, De Feo, Patti, Moravia, Cardarelli, Bartoli, appunto, Longanesi. Commentavi la gente che passava, commentavi la politica, commentavi... C'era Soldati, per esempio, che era scrittore intellettuale, protetto da mio padre, che l'aveva fatto andare in America, ha fatto il cinema. Era tutt'uno allora. Adesso no, non è più così.